e qui possiamo ammirare le terbe del petriolo ci abbiamo il nostro bob che qui che prepara andiamo a vedere cosa sta preparando zanzarino lo zanzarino le stelle di rando lo zanzarino lo devi fare così a tutti i suoi movimenti a tutti i suoi movimenti a tutti i suoi movimenti grazie a tutti